Treni fermi, disagi in vista nel fine settimana. Da questa notte fino alla notte di lunedì, infatti, la circolazione dei convogli sarà sospesa tra Cassino e Vairano e fra Cassino e Isernia. Pertanto, alcuni treni regionali e a lunga percorrenza dell'asse Roma-Cassino-Napoli subiranno cancellazioni, modifiche o variazioni di percorso. La circolazione sarà sospesa dalle 23.30 di questa notte, sabato 6 luglio, alle ore 4.30 di lunedì 8 luglio. La sospensione è stata disposta per consentire l'operatività dei cantieri aperti per effettuare la manutenzione nella stazione di Rocca De Vandro da parte di Rete Ferroviaria Italiana, società capofila del polo infrastrutturale del gruppo FS Italiane. A darne comunicazione attraverso il sito internet ufficiale è Rete Ferroviaria Italiana, che informa gli utenti del fatto che, per avere maggiori dettagli sui provvedimenti di circolazione, è possibile consultare i canali di vendita delle imprese ferroviarie. Accedendo al portale di Trenitalia per verificare le soluzioni possibili, si apprende che l'ultimo treno per Roma è quello di questa sera, alle 20.30. Le altre corse della domenica sono inserite in agenda, ma sono disponibili dal giorno successivo, ovvero lunedì, come indicato da apposita dicitura accanto all'orario di partenza. Stessa cosa con i convogli diretti a Napoli, l'unico previsto nella giornata di domenica, quello delle 8.31, è disponibile a partire da lunedì.